Io mi chiamo Massimo Fiorucci e sono della Digidom, sono uno dei fautori del sistema Evolus. Il sistema Evolus è un sistema che è nato nel Tide 2006 ed è un sistema domotico che permette di fare qualsiasi cosa con caratteristiche un po' diverse da quello che si è abituato. Per esempio è un linguaggio di programmazione molto friendly, non ha bisogno di cavi schermati, cavi twistati o comunque cavi speciali, terminatori di linea eccetera, funziona con cavi normalissimi, è molto veloce, possiamo gestire più di 100 comandi a secondo, possiamo collegare sulla stessa linea più di 65.500 centraline per un totale di 20.000 punti in comandati che sono comandati da 240.000 punti. Noi stiamo cercando di contattare una distribuzione efficace e poi anche di far conoscere agli installatori e a tutti quelli che passano quello che noi possiamo creare. Il mercato della domotica non è ancora sentito come dovrebbe, come le spiegavo prima, nessuno comprerebbe un'auto senza chiusure centralizzate, senza vietra elettrica, ma in casa non ce la cosa di nessuno. Quindi la mentalità c'è già della domotica. C'è una certa diffidenza che però è vicolata dall'installatore, non è tanto vicolata dal cliente finale. Io cliente finale, se mi assicurano che poi il mio sistema funziona, io sono disposto a avere in casa le stesse performance che ho magari in auto, mentre invece l'installatore dice no, non sto da montare la domotica, che poi magari si guasta, non funziona, ma c'è la certa diffidenza. Il mercato è dato dagli installatori, purtroppo siamo ancora a questa scena.